L'argentario si conferma territorio a chiappa VIP per eccellenza. Nelle acque di Porto Ercole, comprese tra l'isolotto e il pellicano, infatti è stato immortalato dall'obiettivo del paparazzo Enzo Russo il mega yacht di Steven Spielberg. Russo ha ripreso il regista, tre volte vincitore dell'Oscar, con il suo immancabile cappellino Prendere placidamente il sole al piano mare, di uno dei quattro di cui si compone il Seven Seas. 109 metri di lunghezza che non possono certamente passare inosservati, del costo di 250 milioni di dollari che può ospitare 14 persone in 7 cabine e 30 membri dell'equipaggio. Una imbarcazione talmente grande, capace di contenere al suo interno anche un tender che Russo ha ripreso a rientro dopo un'escursione marina. Il regista hollywoodiano ama il mare dell'argentario e dopo lo scorso anno ha deciso di tornarvi. Ma sono tanti i vip che frequentano questi lidi. Recentemente la pop star Henry Styles, leader degli One Direction, è stato pizzicato mentre faceva la spesa in un supermercato di Orbetello, a causa forse di una love story con una ragazza maremmana. Anche l'attrice del diavolo veste prada, Anne Hathaway, si è fermata ad Anzedonia, alla locanda Griglio, specializzata in carni, mentre il campione dell'NBA Jimmy Butler è stato individuato a Porto Santo Stefano.